Gianluca Caracciolo, vincitore della seconda edizione del concorso Ipico a 5 Stelle, provincia di Catanzaro. Emozioni? Ma venire qui è sempre una grande emozione perché il posto è molto bello, l'organizzazione è eccezionale. Ho confermato la vittoria di agosto e quindi, insomma, una grande emozione. E altri progetti? Ma parlavamo ieri con il Presidente Cardona, purtroppo di posti così belli al sud non ce ne sono e quindi dobbiamo accontentarci un po' di questi pochi eventi che giustamente qui riescono a fare e quindi ci spostiamo verso il nord, Cattoli, Carezzo e Manerbio. Presidente Ferro, seconda edizione del concorso Ipico nazionale a 5 Stelle, provincia di Catanzaro. Un monte premi da 40.000 euro, 200 cavalieri iscritti. Insomma, un'economia che si muove creando un indotto economico non indifferente, considerando non solo una crisi economica nazionale ma anche dell'Ipica stessa che viene rilanciata e promossa da una provincia del sud Italia. Beh, intanto riempie un contenitore di prestigio come quello della Valle dei Mulini, ovviamente, devo dire, con la presenza di tanti importanti cavalieri ma soprattutto anche di tanti animali di grandissima qualità. A questo si aggiunge la volontà dell'indotto economico che certamente viene legato ad una delle dieci tappe italiane di un concorso a 5 Stelle nazionali, ma anche un gran gioco di squadra che avviene attraverso l'amministrazione provinciale, la fise regionale con il suo presidente Cardona, con la presidente Erdina che ovviamente gestisce questo parco Ipico. E quindi è la volontà anche di trasferire quel messaggio culturale all'indotto economico, alle nuove professionalità che si avvicinano ovviamente per poter dimostrare le capacità di ospitare grandi cavalieri, anche quella cultura di uno sport che troppo spesso viene pensato per pochi, invece uno sport che può esserlo per tutti. Lo facciamo ovviamente a tutti i livelli e auspichiamo che questi eventi possano sempre di più aumentare perché siamo sicuramente tra le realtà del centro-sud una delle più importanti che intendono ancora perseguire ulteriori traguardi.